E' stato ascoltato per circa due ore William McInnes, il 71enne accusato di aver sparato il razzo, che venerdì sera ha colpito in pieno volto Sergio Salvagno, l'agronomo imperiese di 49 anni, che si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. McInnes è stato ascoltato dal pubblico ministero Marco Zocco all'interno del carcere d'Imperia, dove è rinchiuso con l'accusa di lesioni gravissime. Durante l'interrogatorio l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver sparato il razzo, ma di non averlo direzionato volontariamente ad altezza d'uomo. L'interrogatorio è stato comunque secretato. Nelle immagini di Imperia TV, durante le riprese dello sbarco dei pirati, si vede chiaramente il momento dello sparo e l'impatto sulla folla, dopo che il razzo ha percorso il breve spazio che separa la barca Seat of San Francisco dal molo. In questo fermo immagine, inoltre, è evidente la posizione di un uomo a prua che tiene in mano quello che sembra proprio essere un razzetto, pochi attimi prima del suo lancio. Ora l'avvocato dell'armatore chiederà la concessione degli arresti domiciliari. Intanto Salvagno è sempre sotto osservazione, con i medici che stanno monitorando la sua situazione cerebrale e la pressione che l'ematoma ha subito sta causando al cervello. Grazie a tutti.